Stai incuriosendo molto il video diffuso sui social che mostra un topo scodinzolare mentre viene accarezzato, inducendoci subito a pensare che abbia un atteggiamento simile a quello dei cani. Tuttavia, il movimento della coda nei topi è un segnale comunicativo molto complesso e può indicare una vasta gamma di emozioni e intenzioni, ma non è specificamente legato alla gioia. Essendo il protagonista del video un esemplare quasi certamente allevato dagli esseri umani, è del tutto plausibile che il suo curioso scodinzolio possa essere abbinato a un sentimento di curiosità. Continua a seguirci su GloboView.